L'ufficialità arriverà entro il 30 giugno, ma possiamo anticipare che la Palacanestro Lago Maggiore non parteciperà al prossimo campionato di Lega 2 Silver. La conferma nelle parole di Fabio Tosi, che non lasciano spazio a dubbi. Ci siamo trovati ed abbiamo deciso quello che era nell'aria. A meno che arrivi un bagnate nei prossimi giorni, possibilità vicina allo zero, ci vediamo costretti a ridimensionare i nostri obiettivi. La PLM dunque non si iscriverà alla Lega 2 Silver. La situazione economica rende impossibile questo scenario. Abbiamo degli impegni da onorare nei confronti dei tesserati di quest'anno e dei debiti progressi di cui dobbiamo rispondere. Visto che vogliamo avere la coscienza a posto, spiegatosi, e la nostra priorità è quella di sistemare i conti, ci vediamo costretti a scegliere la via dell'autoretrocessione. Difficile ora da quale categoria ripartirà la PLM. Forse la Serie C nazionale, forse la regionale. Non è più il tempo di vivere di promesse e di sogni continuatosi, anche perché poi qualcuno, nella fattispecie alcuni dirigenti, devono rispondere direttamente degli impegni sottoscritti. Abbiamo già cominciato a spiegare la situazione a giocatori, tecnici e procuratori, che hanno apprezzato la nostra schiettezza, prosegue il dirigente di Castelletto, che poi si rivolge ai tifosi. Magari qualcuno non capirà, specie, chi ha nella testa ancora le immagini degli americani ai tempi della Lega 2. Quei tempi però sono lontani. Mi auguro che tanti comprendano ed accettino la nostra scelta, conclude Tosi.